ciao a tutti benvenuti sul mio canale oggi voglio parlarvi della carta termoadesiva e della tecnica applique la carta termoadesiva è una carta io ho in casa questa vi mostro questa però il sistema è quello allora è una carta che presenta una parte ruvida e una parte sotto lucida perché è foderata diciamo impregnata di colla questa carta qui ha la funzione di trasferire il pezzo di stoffa con il soggetto disegnato su un altro pezzo di stoffa attraverso il calore il calore con il ferro da stiro che va usato rigorosamente senza vapore e posizionato sulla temperatura seta allora per cominciare noi dobbiamo prendere il disegno il soggetto che vogliamo trasferire sul nostro progetto che può essere una borsa una copertina una maglietta qualsiasi indumento qualsiasi stoffa quindi il disegno noi lo possiamo scaricare o da internet oppure se siamo bravini possiamo disegnarlo a mano libera su un foglio di carta forno io ho disegnato una pera sul foglio di carta forno allora ci sono due metodi per i principianti io consiglio di disegnare il soggetto nella sua completezza e quindi di riportarlo tutto con la stessa stoffa sul disegno sull'oggetto che vogliamo decorare borsa maglietta cuscino quello che volete per chi invece ha un po più di manualità allora si può scomporre il disegno in vari segmenti e disegnarli su vari pezzi di stoffa ad esempio io faccio il corpo della pera non so verde poi faccio la foglia su un altro pezzettino di stoffa non so marroncina e poi applico delle cuciture faccio delle cuciture in contrasto insomma vado ad arricchire il mio disegno però questo procedimento è per chi ha già un po più di manualità per chi proprio si appresta per la prima volta si approccia questa tecnica per la prima volta il mio consiglio è quello di scegliere un soggetto molto semplice da disegnare e disegnarlo nella sua completezza cioè tutto con lo stesso tipo di stoffa tenete presente poi che il disegno una volta attaccato all'oggetto che vogliamo decorare va ripassato o a mano o con la macchina da cucire lungo tutti i bordi quindi se siete esperte potete proprio scegliere un soggetto molto complesso tipo non so la bambolina con i fiori coricini il mazzo di rose in mano perché poi tenete conto che dovete ripassare anche petalo per petalo foglia per foglia con la macchina da cucire quindi come vi ripeto dovete avere una certa manualità se invece non siete brave con il cucito allora optate per un soggetto molto semplice lineare che può essere un frutto una mela una pera una casettina dove ci sono delle linee rette che unite fra di loro creano il tetto creano le pareti della casa quindi sono soggetti molto lineari allora vediamo subito come fare allora dicevo trasferite il disegno sulla carta forno poi si prende la carta termoadesiva in questo caso qui c'è già l'indicazione quindi questa è la parte dove c'è la colla io dovrò andare a disegnare dall'altra parte la carta termoadesiva si presenta come vi ho detto prima con una parte con la colla e l'altra parte o ruvida opaca perché essendoci vari modelli di carta termoadesiva ci sono quelli che sono lucidissime lisce da una parte e ruvide dall'altra parte oppure quelle che ci sono molto lucide da un lato e invece opaco dall'altro lato e questa carta qui ad esempio all'opacità da un lato e la lucentezza dall'altro lato dove c'è la colla quindi adesso vado a ritagliare un pezzo di carta termoadesiva per poter riprodurre il mio disegno ho ritagliato il mio pezzettino di carta e spero che voi riusciate a vedere che da questo lato è molto opaco il foglio mentre dall'altro lato è lucido vediamo di metterlo un contro luce ecco si vede è lucido così perché è tutto rivestito con la colla quindi cosa faccio appoggio lo strato con la colla sul mio disegno e vado a ricalcare con la matita con la biro con quello che volete tutto il disegno ecco cerco di non sprecare carta di posizionare bene e vado a ricalcare alla perfezione tutto il disegno in questo modo adesso io sto facendo la sera ecco in questo modo e vado a ricalcare il mio disegno ecco ho usato la matita ma non so se voi riuscite a vedere il disegno perché il tratto è molto leggero comunque è ben visibile allora adesso vado a ritagliare grossolanamente il disegno io ho scomposto i vari elementi che formano la foglia perché voglio utilizzare stoffe di diverso colore ecco fatto mi raccomando forbici per la carta e forbici per la stoffa non utilizzate la stessa forbice perché se utilizzate la forbice per la carta poi ho tagliato il tessuto la rovinate quindi ogni ogni elemento ogni materiale deve avere la propria forbice una volta che ho tagliato grossolanamente il mio lavoro ecco lo vado a rifinire così lo devo riprodurre lo devo diciamo appoggiare sulla stoffa che ho deciso di utilizzare per creare il mio soggetto potete utilizzare qualsiasi tipo di stoffa dal cotone al jersey alla maglina tutte le stoffe che volete con un piccolo accorgimento non utilizzate stoffe con la trama troppo larga perché altrimenti la colla passa sotto allora adesso andiamo a posizionare il nostro disegno sulla stoffa che abbiamo deciso di utilizzare con la parte lucida rivolta verso la stoffa prendiamo il ferro adesso devo abbassare un po la temperatura ecco fatto il ferro temperatura seta e andiamo ad appoggiarlo sopra il foglio di carta lasciandolo in posizione per qualche secondo per dare tempo alla colla di sciogliersi e quindi di attaccarsi alla stoffa stessa ecco fatto adesso facciamo raffreddare il nostro lavoro e poi andiamo a ritagliare con la massima precisione tutti i bordi del disegno ecco la stoffa si è raffreddata perché la colla raffreddandosi si indurisce e quindi incolla il disegno in pratica adesso vado a ritagliare alla perfezione tutti i bordi del mio disegno mi raccomando il la stoffa il disegno con la carta trasferito sulla carta termoadesiva va incollato sul rovescio della stoffa quindi anche lo schema che voi andate a disegnare lo ricordatevi che sta che è fatto in maniera speculare perciò se voi volete il disegno nello stesso verso che con il quale si presenti in originale dovrete semplicemente capovolgere la carta forno e riportare il disegno sulla carta termoadesiva al contrario quindi adesso vado a ritagliare tutto il mio disegno in modo molto molto preciso per poterlo poi trasferire sull'altra stoffa ecco fatto ho ritagliato in modo molto molto preciso il mio disegno e adesso lo devo trasferire sulla mia stoffa cosa faccio prendo e tolgo il pezzettino di carta dal disegno facendo molto attenzione a non sollevare anche la pellicola adesiva in questo caso le mie unghie mi tornano molto molto comode ecco si vede che il disegno è molto lucido quindi la pellicola adesiva è stata trasferita completamente sul disegno al tatto il disegno risulta gommoso perché perché c'è la pellicola di colla che ha aderito alla sagoma adesso prendo la mia sagoma e la vado a mettere nella posizione desiderata diciamo non so la metterò qua così prendo il ferro da stiro a questo punto sempre a posizione seta temperatura per la seta senza vapore e vado a trasferirlo in questo modo sulla mia stoffa lascio sempre qualche secondo il ferro caldo sulla mia sagoma per dare modo alla colla di trasferirsi completamente sul tessuto ecco faccio una leggera pressione cerco di incollare far incollare bene tutti i bordi insisto molto sui bordi ecco fatto anche adesso faccio raffreddare la mia stoffa in modo che poi il disegno risulti proprio incollato alla perfezione adesso con lo stesso sistema vado a ritagliare la foglia della pera e tutti gli elementi che compongono il mio soggetto ecco ho ritagliato la mia foglia adesso la vado a trasferire sul retro della stoffa che voglio utilizzare per disegnare il per completare il mio soggetto quindi piano piano lascio qualche secondo il ferro ecco fatto in modo che la colla si trasferisca bene sulla stoffa allora voglio dirvi una cosa una piccola un piccolo trucchettino allora a me è capitato l'altro giorno stavo lavorando al buio c'è al buio con poca luce e per sbaglio ho messo la parte con la colla a contatto con il ferro mi sono preso un colpo perché ho incollato tutta la piastra del ferro non sapevo cosa fare perché ho dato proprio necessità di finire questo lavoro ma non voglio rovinare la piastra del ferro perché il ferro è nuovo mi spiaceva allora ho preso un foglio di alluminio il domo pack di alluminio l'ho appoggiato sull'asse da stirare e ho stirato il foglio in questo modo sono riuscita a pulire completamente la piastra del ferro che ve la faccio vedere e la piastra è ritornata nuova quindi visto che questi piccoli incidenti possono capitare oppure mentre stirate urtate con la punta del ferro l'elastico di un vestito e la piastra poi resta sporca fate così prendete il vostro foglio d'alluminio lo stirate lo passate fate una leggera pressione due o tre volte stirate vedrete che la piastra ritorna veramente pulita è un metodo sperimentato ve lo garantisco e sono contenta ad averlo da averlo letto da qualche parte questo sistema non mi ricordo più e sono riuscita a salvare la piastra del mio ferro perché prima dovevo prendere la paglietta pulirlo non avevo in casa il liquido a posto dovevo aspettare ferro caldo ferro freddo insomma un disastro in questo modo in qualche secondo voi ritornate con il vostro ferro tutto bello pulito quindi dopo questa premessa vediamo un po una cosa che spero vi sia utile magari non vi interessa però sinceramente io l'ho trovata molto utile allora adesso vado a ritagliare alla perfezione la mia foglia il risultato finale dipende da proprio da questo passaggio qui da quanto siete precisi una volta che il disegno è stato incollato sulla stoffa da quanto siete precisi nel taglio quindi facciamo così ecco fatto ok ok vado a rifinire qua ecco fatto adesso devo scegliere la posizione dove mettere la mia foglia lina però qua e vado a ritagliare anche gli altri elementi così almeno poi li compongo e ci passo il ferro caldo ecco fatto qui ho utilizzato un altro pezzo di stoffa proprio di un materiale diverso penso che sia un cotone molto molto pesante era uno scampolino che mi sono trovata in casa e quindi uso anche quello perciò questo per dire che le stoffe non devono avere tutto lo stesso spessore ecco fatto così faccio raffreddare e poi vado a ritagliare alla perfezione ecco fatto comincio a far incollare bene questi pezzettini che sono molto piccoli quindi vediamo un po di riuscire di incollarli e poi dopo andrò a mettere la mia foglia sto incollando l'ultimo elemento del mio soggetto quindi la fogliolina ecco fatto a posto il risultato finale questo come potete vedere è di una semplicità enorme adesso dobbiamo andare a rifinire o con la macchina da cucire o a mano tutto il bordo del nostro disegno della pera della fogliolina perché la cucitura innanzitutto serve per tenere proprio cucito il disegno alla stoffa e poi la cucitura dà anche profondità al disegno da quasi un effetto 3d al nostro disegno ci sono vari metodi potete fare una cucitura dritta potete fare la cucitura zig zag potete fare una cucitura tipo il punto come si chiama over look insomma decidete voi che tipo di cucitura potete fare l'importante ecco che sia un punto che tenga molto molto bene il disegno alla stoffa io penso di utilizzare un punto zig zag però ecco se volete però potete benissimo fare anche un piccolo sopraggito a mano insomma come preferite voi adesso vado a terminare il mio disegno vi mostro il risultato finale ecco fatto sono andata a definire tutti i contorni della mia pera con il punto zig zag con il filo in cotone in contrasto utilizzato il marrone e questo è il risultato finale come potete vedere un bel progettino simpatico e il procedimento è veramente molto molto semplice è immediato il risultato perché non dovete aspettare i tempi di asciugatura tutto quanto perché vedete una cucitura e il vostro il vostro progetto è già pronto adesso potete sbizzarrirvi creando tantissime cosine belle io vi metterò il video tutorial della borsa che ho creato con la tecnica appunto dell'appliqué e vedrete che è veramente molto molto semplice creare diversi progettini simpatici adatti per ogni esigenza perché in questo caso io sicuramente questo questo imparaticcio chiamiamolo così non lo butto perché con un piccolo bordino potrei creare anche una tovaglietta da te faccio una bella taschina infilo il tovagliolo faccio tutti i miei bordini e quindi in un attimo creato un progettino carino simpatico e originale io vi saluto vi ringrazio per l'affetto con il quale mi seguite sempre e vi do appuntamento al prossimo video tutorial ciao